benvenuta a presenza giulia ciccoli grazie anna benvenuta a questo spazio di donne che costruiscono il futuro verso una cultura non violenta benvenuta a casa grazie grazie per l'invito davvero giulia giulia ciccoli è uno dei fondatori di still i rise una organizzazione internazionale indipendente che è molto attiva nel campo dei diritti dei rifugiati in particolare dei bambini dei ragazzi rifugiati e infatti ha costruito e sta costruendo scuole in diversi paesi in grecia in siria in turchia in kenia per dare a questi bambini a questi ragazzi non solo un'educazione che viene loro negata ma anche protezione anche dignità negli ultimi tempi queste scuole hanno incontrato delle difficoltà a causa delle limitazioni poste dai lockdown dal covid in alcuni casi sono state chiuse e infatti è per questo che giulia ci sta parlando adesso dall'isola greca di samos quando io l'ho invitata a fare questa intervista pensavo che fosse in turchia perché lei mi aveva detto che l'estate scorsa sarebbe andata in turchia per aiutare ad aprire una scuola là però poi questa scuola è stata chiusa e quindi giulia è tornata in grecia e appunto adesso è nell'isola di samos dove ci sono migliaia di rifugiati che vivono in condizioni veramente terribili e quindi io come prima cosa le chiederei di raccontarci un po' che cosa è successo e che cosa sta succedendo a samos e quali sono le politiche europee sulla migrazione che hanno causato e stanno causando questa situazione certo grazie anna sì io sono a samos che è un'isola greca molto vicina alla turchia nel punto più vicino siamo a un chilometro e due di distanza e insieme a samos ci sono quattro alte isole greche quindi lesbo chios coste leros che appunto sono territorio greco ma ma molto vicino alla turchia quindi queste isole eh più o meno dal duemila e quattordici duemila e quindici sono praticamente diventate il primo eh punto di accesso in Europa per i richiedenti asilo che arrivano dalla turchia nel duemila e quattordici duemila e quindici si trattava principalmente di siriani eh perché ovviamente era il periodo diciamo caldo della della migrazione siriana in Europa ehm tempi in cui la Germania eh apri le porte quindi la Germania tuttora ha più di un milione di di rifugiati siriani eh che vivono in Germania ehm ovviamente queste sono isole piccole eh isole anche abbastanza remote che si sono trovate praticamente da un giorno all'altro eh nel nel lock spot della migrazione ehm nel duemila e sedici eh la per risolvere per tentare di risolvere ehm il problema della migrazione la gestione della migrazione che sono sempre no le parole che usa eh l'Unione Europea quando si tratta di di migrazione hanno deciso di eh fondamentalmente fare un accordo con la Turchia settimana prossima sarà l'anniversario dei cinque anni di questo accordo eh per cui in cambio di soldi eh per la gestione dei migranti in in Turchia eh la Turchia eh si ehm eh inizia a fare appunto con la con la sua guardia costiera ehm di eh respingere riportare in Turchia i migranti che che provano appunto a lasciare la Turchia finché sono in acque turche se invece dovessero riuscire a entrare in acque greche poi eh dovrebbe essere permesso loro di fare richiesta d'asilo in Grecia nell'ultimo anno questo non è successo eh nell'ultimo anno la la guardia costiera greca continua costantemente a fare rispingimenti illegali eh addirittura di persone che proprio sono arrivate fisicamente sull'isola e vengono rimandate indietro al di là di questo comunque ehm oltre appunto a questo accordo della Turchia con la Turchia quindi le persone che riescono ad arrivare sulle isole greche ehm teoricamente cioè quelle che riescono appunto non vengono respinte come nell'ultimo anno eh vengono portate in questi campi che sono diventati dei cosiddetti hotspot quindi gli hotspot dovrebbero essere dei campi chiusi eh l'idea eh dell'Unione Europea era di eh portare avanti una procedura rapida eh in questi posti per facilmente distinguere chi avesse diritto a alla protezione internazionale e quindi potesse poi rimanere in Grecia e chi invece no quindi dovesse essere deportato che ehm come concetto uno può anche pensare sì certo ha senso eh la realtà invece è quella che eh queste persone rimangono per anni anni in attesa di una risposta e la più della metà praticamente negli anni di di persone che vivono in questi campi sono donne e bambini eh ci sono anche sono stati anche ora meno tantissimi eh bambini da soli minori non accompagnati cosiddetti quindi questi campi sono fondamentalmente esplosi eh negli ultimi cinque anni ripeto non è più una crisi è è la normalità il campo di Samos è stato creato per 648 persone e al suo picco nel 2018 aveva circa 8000 persone adesso i numeri sono scesi perché comunque ripeto nel 2020 eh a causa di questi costanti restringimenti illegali abbiamo avuto praticamente meno di 50 arrivi penso in tutto l'anno ehm però il campo è decisamente eh sovrappopolato eh le persone vivono fuori dal perimetro del campo perché semplicemente non c'è posto in una foresta che loro chiamano la giungla eh all'arrivo non viene dato loro nulla eh quindi devono crearsi loro una sorta di struttura in cui vivere o comprarsi una tenda non c'è elettricità l'acqua è stata portata solamente da una ONG il governo non ha fatto nulla e queste persone vivono in tenda in attesa eh in attesa dei documenti fondamentalmente e e può essere mesi o anni eh o della deportazione perché anche quella anche quella nozione senza assolutamente la minima dignità o il minimo di rispetto per i diritti umani inclusi i diritti dei bambini ehm ci sono tantissime donne incinta che spendono la loro gravidanza in tenda spesso partoriscono in tenda eh le fortunate che vanno in ospedale per partorire dopo due giorni vengono riportate al campo con un bambino appena nato quindi sì la situazione è molto molto grave è grave da anni la pandemia ha semplicemente accelerato eh l'orrore che succede in questi campi perché ovviamente i campi in lockdown vuol dire vivere in condizioni atroci senza poter uscire vuol dire non potersi proteggere dal virus per proprio mancanza di mascherine di acqua di di distanziamento ehm e purtroppo è così e ci speravamo in un cambiamento che però non vediamo ad orizzonte se non un peggioramento purtroppo delle positive sono situazioni terribili ma bisogna raccontarle è importante questo e volevo chiederti che cosa ha motivato la tua scelta e che cosa ti aiuta a portarla avanti in queste condizioni terribili dovendo affrontare tutti i giorni ingiustizie violenza difficoltà eccetera come fai sono nata in Italia da genitori italiani il che significa che ho uno dei passaporti più potenti al mondo sono nata e cresciuto sono cresciuta nei nei sobborghi insomma in Brianza quindi in un ambiente molto sicuro tranquillo in una famiglia o di nuovo ho avuto anche la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre supportato e e sempre stata presente nella mia vita e e tutto ciò mi ha permesso di diventare la persona che sono diventata mi ha permesso di studiare mi ha permesso di viaggiare ho studiato in inghilterra studiato a milano ehm senza che io mi fossi meritata niente cioè mi è stato tutto dato su un piatto d'argento e e vedere questa realtà di dire sono in Europa quindi le stesse leggi e gli stessi diritti si applicano io ho tutto questo ehm regalato queste altre persone non hanno nulla semplicemente perché hanno un passaporto diverso cioè la differenza tra di noi è alla fine un pezzo di carta che per cui loro non hanno fatto nulla di male cioè sono nati in questo paese ed è un paese al momento in guerra e ehm questa è una cosa che tuttora eh fatico a capire e e quindi eh ho deciso di fare questo sì non è una vita semplice è sicuramente una vita diversa dalla vita che avevo prima comporta sacrifici principalmente personali ovviamente non essere mai a casa perdere tanto eh di quello che succede a casa lavorare tantissime ore al giorno quindi anche non avere una vita eh personale praticamente cioè il mio lavoro è fondamentalmente la mia vita ma mi ha dato anche tantissimo mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone sia i miei studenti che altri residenti del campo di tantissimi paesi diversi e e ho imparato tantissimo da loro ma anche il mio stesso team il nostro team è un team internazionale di di persone un po' da ovunque e idem le altre organizzazioni sull'isola quindi ehm ho ho avuto delle amicizie delle insomma degli scambi molto molto interessanti ma più di tutto la l'energia diciamo di di andare avanti va a una parte è la rabbia delle costanti ingiustizie e io non ce la faccio a dire ah vabbè se è così va bene eh nonostante perché penso che l'essere umano si abitui un po' no? Cioè in qualsiasi situazione tu sia poi c'è lo spirito direttamente quindi ti abitui quindi quando vedi questo campo per quattro anni dopo un po' diventa la tua normalità e per me invece non è così quindi ogni volta mi infurio e mi da tanta energia ehm ma l'altra forza più più forte è anche vedere ehm vedere i miei studenti crescere ad esempio ormai abbiamo fondato Stilairais quasi tre anni fa io sono a Salmos eh insomma parte la parentesi turca più o meno da quattro anni e e quindi ho degli ex studenti che ora eh sono stanno crescendo e e vedere quanto abbia significato per loro avere lo spazio di Masì del che del nostro centro quanto insomma gli anni dell'adolescenza siano comunque anni in cui cresci molto crei la tua personalità capisci anche la socialità e non fai amicizie eh scopri talenti che magari non sapevi di avere e e quanto questo spazio ehm li abbia formati li abbia ehm abbia tirato fuori quello che loro sono sempre stati e sarebbero sempre stati ma forse non non avrebbero potuto tirare fuori se non avessero avuto un posto per farlo e quindi vedo ad esempio dei ragazzi mi ricordo questo ragazzo siriano che ha scoperto la chitarra da noi e e gli piace suonare ma è anche bravo e quindi adesso che eh ad Atene suona spesso la chitarra o o un'altra nostra studentezza è stata con noi più di un anno e e vive in un campo profughi di nuovo spostati da una parte all'altra come pacchi postali quindi purtroppo vive in un altro campo profughi di sempre in attesa e eh non può andare a scuola non ha non vanno a scuola pubblica e quindi lei ha deciso di insegnare ai bambini più piccoli del campo eh quello che ha imparato con noi e allo stesso tempo insieme ad altre ragazze a eh protestare e chiedere costantemente il loro diritto umano di andare a scuola e e questo è ovviamente è sempre stata così lei non voglio prendermi i crediti che oh grazie noi abbiamo fatto questo ma aver dato uno spazio sicuro fuori dal campo di educazione di di regole di struttura in cui questi ragazzi potessero diventare se stessi mi dà tantissima energia quindi è questo e poi l'ultima cosa è il fatto che è vero c'è molto c'è cose terribili succedono attorno a me e a persone a cui tengo tra cui i miei studenti però mi dico sempre se loro possono viverlo io posso ascoltarlo e fare il possibile per per supportarli ehm alla fine della fiera la mia famiglia è al sicuro in Italia e e la differenza sta lì mi sembra terribile ma bellissimo tutto quello che racconto grazie e quindi vorrei chiederti come donne come giornalisti indipendenti ma non solo di presenza di tutta una rete di media indipendenti di cui noi facciamo parte come possiamo aiutarvi a far conoscere le vostre attività a far conoscere questa situazione grazie sì per me lo dico sempre lo dico a chiunque eh parlarne 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 ehm io penso che il dibattito sulla migrazione in Europa sia molto di slogan sia molto superficiale e molto sterile e che comunque da una parte o dall'altra ehm porti a etichettare per cui insomma da una parte i migranti irregolari che arrivano vanno rispediti indietro dall'altra parte i profughi e rifugiati poveri sono poveri eh non hanno bisogno di aiuto magari non sono mai andati a scuola eccetera e certo alcuni di loro sono poveri alcuni di loro non sono mai andati a scuola sì ma mettere queste etichette significa non vederli come persone significa vederli come altro eh diverso da noi perché magari non sono bianchi magari hanno una religione diversa ma alla fine della fiera sono persone come tutti noi ovvio ci sono lingue diverse culture religioni diverse eccetera ma siamo tutti esseri umani quindi viviamo eh gli stessi sentimenti la so la la famiglia i figli l'amore l'odio la la dignità il rispetto sono universali e se iniziassimo a vedere queste persone come persone quindi come persone che devono lasciare casa perché nessuno io non c'è nessuno di noi volontariamente vivrebbe in un campo del genere se se sopporti una vita del genere per così tanto tempo è perché non hai alternativa eh non perché non vedi l'ora di far crescere i tuoi figli eh mangiati dai topi di notte e quindi se appunto non se se però la conversazione rimane così sterile no il dibattito rimane così sterile poi le decisioni vengono prese da politici in uffici da qualche parte che dicono ah questi sono in numeri a questi facciamo così facciamo cosa e non vedono che dietro ai numeri ci sono persone e ogni numero è una persona una persona diversa quindi sì cerchiamo di di parlare il più possibile perché non penso di star facendo dei ragionamenti radicali né assurdi ma purtroppo ripeto la migrazione viene vista come una crisi o è un dibattito molto superficiale molto sterile parliamoli di più ascoltiamo le loro voci capiamo chi sono e soprattutto trattiamogli da esseri umani certo e senti come ultima domanda visto che finora eh abbiamo parlato del presente però questa serie di interviste si chiama donne che costruiscono il futuro verso una cultura non violenta allora mi piacerebbe che tu descrivessi brevemente per noi qual è il futuro a cui aspiri il futuro a cui aspiro è quello che cerchiamo di costruire nelle nostre scuole abbiamo studenti l'ho già detto di tantissimi paesi uno staff internazionale e la mia esperienza qui mi ha fatto capire l'importanza della libertà che ho sempre completamente dato per scontato nella mia vita precedente ho dato per scontato la mia libertà come persona e che per lo meno in Europa ci fosse eh per tutti e così non è ed è ovviamente una libertà di di non essere in prigione quindi una libertà di movimento di potersi spostare una libertà di parola ovviamente ma è anche una libertà di di essere chi vuoi essere ehm su tantissimi aspetti e ovviamente la mia libertà finisce dove inizia la tua ma siamo diversi ogni persona è diversa ed è giusto che sia così e io posso non essere d'accordo con le tue scelte o le due idee ma ti rispetto e allo stesso tempo pretendo rispetto ehm di di chi sono io delle mie azioni delle mie decisioni delle mie idee e solo così si si crea una società e e nel nostro centro funziona ehm nelle nostre scuole funziona perché ci rispettiamo tra di noi staff tra di noi staff e studenti e tra gli studenti nonostante siamo diversi contemporaneamente insieme alla libertà vorrei vedere più giustizia ehm nelle nostre scuole ci sono regole ci sono regole che si applicano a tutti le regole vengono spiegate e gli studenti e il team possono fare domande e ed è lo stesso per tutti e così dovrebbe essere la giustizia ehm in Europa pensiamo di avere i sistemi più avanzati no? Tra i più avanzati del mondo in termini di democrazia giustizia eccetera la realtà però è che ripeto su suolo europeo io in quanto eh possiedo un passaporto italiano eh ho certi diritti e le persone che sono sempre su suolo europeo che vivono al campo non hanno nessun diritto umano che si applica a loro né tantomeno i diritti del bambino e questo non è giusto quindi sì mi piacerebbe un futuro del genere più libero e più giusto certo grazie Giulia io veramente voglio ringraziarti per aver condiviso le tue esperienze i tuoi pensieri eh con noi e soprattutto per averci mostrato che un nuovo mondo basato sulla solidarietà su dei veri rapporti umani quello che tu hai descritto quello che fate voi come tanti altri beh questo nuovo mondo esiste già ed è importante come tu dicevi mostrarlo dargli spazio e veramente farlo conoscere quindi veramente grazie e grazie mille grazie a voi grazie mille grazie a voi